salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video a sorpresa absan ha calato oggi un asso di quelli veramente pesanti e l'ha calato per il suo absan zino mini versione pro qual è l'asso che ha calato oggi absan come avrete intuito già dal titolo absan ha rilasciato nel suo nuovo aggiornamento la possibilità di attivare la funzione di aggiramento degli ostacoli attraverso ovviamente i suoi sensori anti collisione quello che succede un po con i droni molto più blasonati a livello di dimensioni peso e prezzo anche absan in questa versione cioè la versione pro del suo zino mini perché è l'unica versione ovviamente con i sensori le altre due versioni non hanno i sensori anti collisione ha attivato questa funzione e premetto che io non pensavo che absan attivasse questa funzione su questo piccolo drone perché non pensavo che lui fosse in grado di farlo oggi scopriremo come lo fa perché comunque non l'ho ancora provato testeremo live insieme questa funzione però sicuramente è il primo drone 249 grammi in grado di farlo perché come sapete autelivo nano è molto indietro dal punto di vista degli aggiornamenti firmware quindi tante funzioni non sono ancora attive quindi non so se questa mai l'avrà o meno comunque adesso non l'ha come non ha l'active track mentre lui adesso è sicuramente molto più completo rispetto al suo rivale di casa autel ragazzi adesso non vedo l'ora di provarlo perché non pensavo che absan intendesse introdurre questa funzione però non ci resta che provare a vedere come è in grado di farla perché comunque quello che poi fa nell'aggiramento degli ostacoli al giorno d'oggi è anche la reattività con cui viene fatto l'aggiramento degli ostacoli ovviamente il drone ragazzi attualmente non ha la batteria perché è qua la batteria insieme alle batterie degli altri droni con qua con me perché fa davvero freddissimo quindi ragazzi lasciatemi un pollice su solo per la temperatura perché ci sono due gradi come ci fa vedere il nostro amatismo forecast le batterie sono qua dentro in questa borsina termica dove c'è una pezza riscaldante che le tiene belle caldine quindi quando andiamo poi ad inserire nel drone il drone poi una volta avviato le batterie continuano a rimanere caldi perché come sapete volare con le batterie fredde uno diminuisce il tempo di durata della batteria in volo e soprattutto vi dà dei crolli improvvisi della batteria quindi potreste rischiare di far precipitare il drone comunque il video di tutto questo l'ho fatto circa un anno fa forse di più ve lo lascio qua sopra nelle schede perché comunque chi va a volare al freddo deve assicurarsi con un drone di avere delle batterie che rimangano nelle sue performance ottimali perché comunque un drone viene giù qualsiasi altro dispositivo o device al massimo si scarica ma questi vengono giù è una cosa che volevo dirvi ragazzi mi raccomando prima di provare questa funzione calibrate i sensori tanto adesso l'applicazione è disponibile sia per windows che per mac quindi entrambi i casi adesso è possibile attivare la calibrazione dei sensori sui nostri computer anche se Apsan ovviamente semplice non è riuscito a farla è un pochino complicato attivare l'applicazione sia per mac che per windows però ci si riesce anche perché una volta che siamo riusciti ad installarla dopo funzionerà sempre senza dover smanettare più di tanto però all'installazione bisogna smanettare un pochino sia con windows che con mac purtroppo ad Apsan Apsan non viene ancora benissimo fare le cose semplici però sta tirando fuori delle potenzialità pazzesche da questo piccolo drone e attualmente è l'unico ad avere tantissime funzioni e tantissimi voli automatici tantissime cose che purtroppo Autel Ivo Now non ha che probabilmente avrà prossimamente ma attualmente lo si paga tanto e a poco lui è stato criticato tanto per queste cose che è stato rilasciato a cerbo e via dicendo e capite che però anche Autel va criticata già ha rilasciato il drone in ritardo di 4 mesi circa da quando è stato presentato dopodiché è acerbo sotto tanti aspetti quindi capite che critichiamo Apsan quando è giusto criticarla ma critichiamo anche Autel quando è il momento di criticarla perché comunque è sempre un prendere in giro secondo me il consumatore sia se lo fa Apsan sia se lo fa Autel o come l'ha fatto DJI anche con il Mavic 3 comunque è un prendere in giro il consumatore soprattutto quando poi parliamo di prodotti davvero davvero costosi perché comunque come sapete Autel Ivo Nano Plus che è quello che secondo me ha le caratteristiche sulla carta alla pari di questo punto di vista del sensore della fotocamera poi magari anche meglio però sulla carta costa circa 800 euro giù di lì quando questo attualmente su Banggood costa 470 euro con due batterie questo la versione Pro costa 470 euro con due batterie praticamente costa come il DJI Mini 2 versione base non la versione Combo quindi vi lascio il link in descrizione di questo prodotto perché attualmente è un prezzo secondo me pazzesco per le caratteristiche e quello che è in grado di fare ma non dirughiamoci più in queste chiacchiere è ora di testare lui l'Active Track con aggiramento degli ostacoli andiamo allora ragazzi l'Apsan Zino Mini Pro è qua pronto a decollare purtroppo il meteo è peggiorato anziché migliorare infatti vedete che la foschia è pure aumentata prima era più alta adesso è pure scesa speriamo che non vada questo a interferire con il test che dobbiamo fare oggi però questa è sfiga ragazzi sarebbe dovuto alzare questa nebbia perché sopra qua ci dovrebbe essere anche il sole e invece questa è scesa però non demoralizziamoci e proviamo questo drone il primo drone sotto i 250 grammi con sensori anticollisione che evitano gli ostacoli quindi ragazzi andiamo a decollare decollo automatico per l'Apsan Zino Mini Pro adesso lo metto qua un attimo da parte a me allora ragazzi per attivare la funzione di aggiramento degli ostacoli è semplice clicchiamo sull'ingranaggio in alto a destra facciamo scorrere la schermata fino a questa nuova immagine grafica che assomiglia molto a quella di DJI quella che troviamo nell'app DJI Fly vedete che abbiamo tre opzioni per quanto riguarda appunto i sensori anticollisione abbiamo spento, brake che va a fermare il drone quando c'è un ostacolo e la nuova funzione bypass cioè l'aggiramento dell'ostacolo quindi vado a cliccare su bypass e vediamo che è stata attivata la funzione la grafica è davvero molto simile a quella della DJI Fly una volta fatto questo possiamo ritornare nella nostra schermata principale e possiamo finalmente provare questa nuova funzione come vi ho detto non l'ho ancora provata la sto testando adesso anch'io per la prima volta così per trasmettervi e per farvi vedere realmente quello che succede con lui e il suo sensore anticollisione con evitamento degli ostacoli perché ragazzi tanta roba è stato il primo drone in assoluto ad introdurre i sensori anticollisione per un drone sotto i 250 grammi e adesso è il primo drone in assoluto ad introdurre l'aggiramento degli ostacoli per essere un drone sotto i 250 grammi quindi ragazzi come primo test direi di provare a farlo verso di me quindi mi giro col drone mi allontano il drone è posizionato di fronte a me vedete che i sensori stanno rilevando ostacoli da tutte le parti adesso vengo contro di me e vediamo come si comporta quindi gas a manetta gas a manetta si è spostato wow fantastico fantastico adesso però voglio provare partendo da più lontano per vedere appunto arrivando che i sensori non stiano già rilevando l'ostacolo cosa succede come prima prova secondo me è tanta roba allora posiziono il drone lui in questo momento dietro di sé sta rilevando la nebbia sia chiaro non c'è niente dietro di lui a parte il muro di nebbia quindi per lui c'è un ostacolo e anche questo sicuramente vuol dire che i sensori funzionano bene perché se vedono pure la nebbia tanta roba quindi mi abbasso un attimo quindi adesso l'ho posizionato dalla parte opposta vengo verso di me il gas è al massimo e lui avete visto che ha fatto lo scatto verso la sua sinistra o la mia destra i sensori ragazzi suonano perché rilevano la nebbia infatti il drone adesso ve lo faccio vedere è tutto bagnato perché la nebbia è tanta peccato che questo primo test sia con queste condizioni però ci tenevo a farlo adesso disattivo un attimo i sensori e vi faccio vedere com'è il drone dal punto di vista dell'acqua che c'è addosso guardate sembra che piova non so se lo vedete aspettate che mi posiziono vicino alla telecamera guardate quant'acqua sui braccetti pazzesco ed è solo nebbia e non sta piovendo ovviamente allora facciamo un'altra prova mi posiziono adesso da questa parte allora vado a riattivare i sensori che li avevo disattivati perfetto e adesso provo a venire ancora contro di me in questa posizione purtroppo sta nebbia sicuramente va a limitare un pochino il risultato perché quello che vede lui non è solo il soggetto ma anche la foschia purtroppo d'altra parte questo oggi c'era e non è che ci posso fare niente quindi do verso di me guardate perfetto avete visto come si è spostato è arrivato qua e si è spostato e anche il tempo di reazione in realtà secondo me non è niente male nel senso che per essere un drone di queste dimensioni il primo drone in assoluto a fare questa funzione e soprattutto sicuramente è anche da migliorare perché è nel suo primo aggiornamento firmware da questo punto di vista quindi sicuramente deve migliorare avete visto ragazzi che spettacolo secondo me è tanta tanta roba bisognerebbe provarlo anche con la bicicletta con l'active track però d'altra parte con questo tempo secondo me non ha molto senso perché comunque lui vede staccavoli di nebbia e gli dà fastidio perché i sensori suonano anche se in realtà non c'è niente perché i sensori leggono questo muro di nebbietta che c'è e infatti avete visto anche il drone quanto è bagnato pazzesco allora direi di provare a fare una prova verso quel cespuglio di rami secchi che secondo me potrebbe essere una bella prova anche se ripeto c'è sta nebbia schifosissima allora se non cado ok quindi lui adesso deve aggirare questo cespuglio quindi porto qua il drone perfetto quindi vado col drone contro il cespuglio ok il gas è suo al massimo lui ha già rilevato l'ostacolo si sposta guardate come si sposta e ha girato l'ostacolo cioè secondo me i tempi di reazione per essere un drone così piccolo con un processore sicuramente non di un Air 2S non sono niente niente male davvero ok proviamo adesso a farlo andare verso la pianta da questo lato gas al massimo e guardate come si sposta si sta spostando fantastico ha girato tutta la pianta e anche tutti i rami fantastico mi sta piacendo davvero tanto adesso vado provo andare contro la bicicletta recuperiamo la telecamera riva se non cado dalla riva ok ci siamo non sono caduto allora da questa parte perfetto vengo in avanti verso la bicicletta e vediamo cosa succede sta arrivando ovviamente sta rallentando perché ha visto l'ostacolo guardate si alza e si sposta fantastico fantastico adesso ultima prova da questa parte mi abbasso giro quindi gas guardate fantastico è arrivato qua si avrebbe andato a sbattere si è spostato è andato da questa parte dove c'era il sellino che è più basso rispetto al resto della bici ed è passato fantastico mi è piaciuto un sacco questo atteggiamento di questa Sanzino Mini Pro ragazzi non lo so per me è tanta roba ripeto è un drone da 249 grammi e io onestamente ho sempre pensato che Apsa non avrebbe introdotto questa funzione perché comunque aveva già fatto tanto nell'inserire i sensori anticollisione che funzionano pure benissimo e ragazzi quando ho visto l'aggiornamento disponibile per questa funzione sono rimasto senza parole e in più nella sua prima versione di aggiornamento funziona così pazzesco pazzesco adesso voglio provare quelli posteriori perché comunque in teoria anche quelli posteriori dovrebbero aggirare l'ostacolo vi do le spalle ragazzi ok il drone più o meno dovrebbe vedermi ovviamente non ho la telecamera perché è girato dalla parte opposta vengo indietro si sta già spostando cioè si è spostato ancora un pezzo prima di dove doveva andare ma si è spostato ecco si è spostato tantissimo quelli dietro però sembra che vedano ancora prima l'ostacolo e riproviamo ok vengo verso di me mi giro un attimo verso di me si sposta subito guardate sei già spostato io ho lo stick giù si è spostato praticamente subito perché quelli dietro arrivano all'ostacolo secondo me prima ancora di quelli davanti adesso è qua davanti a me mi allontano perfetto ultima prova ragazzi ok vengo verso di me guardate avete visto il gas era su tutto gas su tutto torna qua però adesso dove vai il gas ok che era su tutto ma ritorna adesso lo riporto qua e tiriamo un attimo le conclusioni vieni piccolo aspetto che disattivo i sensori se non continua a suonare tutto qua perfetto eccolo qua è bagnatissimo ve lo faccio rivedere quanto è bagnato dalla nebbia che c'è guardate quant'acqua che gli cola dai braccetti adesso mi avvicino alla telecamera aspettate guardate quanta acqua ha sui braccetti pazzesco è incredibile quanta umidità ci sia nell'aria in questo momento allora mettiamolo un attimo qua ragazzi fantastico cosa dire fantastico io sono rimasto entusiasta ovviamente il meteo non lo aiutava sicuramente perché comunque questa nebbia gli fa da muro soprattutto in certe posizioni c'è proprio questa foschia che gli fa da muro anche ovviamente droni più blasonati di lui dal punto di vista economico e di dimensioni con la nebbia i sensori tendono ovviamente a rilevare l'ostacolo sto parlando ovviamente di DJI e di Autel quindi ovviamente anche lui lo stesso problemino ce l'ha però per quello che è servito questo test vedere come lui vede l'ostacolo e come diciamo reagisce in maniera tempestiva all'aggiramento sono rimasto senza parole perché parliamo di un drone ragazzi da 249 grammi ed è il primo drone a fare questa funzione quindi per adesso ragazzi tanta tanta roba davvero ovviamente faremo un altro video magari dedicato a questa funzione dove lo proveremo con la bicicletta con l'activity track però ovviamente non con questo meteo perché i sensori ovviamente non lavorerebbero come deve e si andrebbe un po' a rovinare un risultato finale e anche diciamo il suo comportamento reale dal punto di vista dei sensori anticollisione quindi ragazzi se questo primo test del primo drone 249 grammi con i sensori anticollisione con aggiramento degli ostacoli vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram e porto tante novità anteprime voli in fpv spoiler di quello che vengo a fare in questo campo con questi droni e tantissime location di dove vado a volare e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial e una novità ciao e al prossimo video ciao